pochi secondi ancora e arrivano qui in studio due uragani veri e propri in carne ed ossa vi dico solo che mi sono già ragato prima ancora di conoscerle ma questa intervista che stiamo per fare insieme sarà super divertente una produzione radio bari e tele bari sta per arrivare sui nostri schermi vediamo questa rvm pochi se ne sono accorti perché è avvenuto durante la pandemia ma come faccio andare avanti e che cosa sta succedendo nel paese sempre fame perché tu non hai fame si croquet e mangiamo qualcosa tre quarti di queste offerte sono offerte precarie e al nero radio bari io me la sento tu te la senti prendiamo c'è la comica con luigia caringella e anabella giordano in diretta dal 7 novembre dal lunedì al venerdì alle 12 su tele bari radio bari e loro tour de force promozionale finisce con questa sera con tele bari social night sono qui in studio luigia carangella hello hello tutta in inglese l'intervista e anabella giordano hello hi darling hi darling how are you i'm pretty good adesso possiamo fare pace siamo un po' ragazzi ma non ci siamo ragazzi ci siamo beccati da dive siete delle teenager noi abbiamo fatto i divi va bene abbiamo messo la mano sulla fronte ma come tu dici io dico ma io la mano sulla fronte ce l'ho per la fatica per fare questa trasmissione poi puoi dare il mignolino facciamo pace pace da da non lo faccio più a distanza a distanza di gesù non lo faccio ma più quanto manca e manca praticamente il weekend state preparando tutti i dettagli sì 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 stiamo preparando i dettagli lo spuntino da fare durante quella è la base la base perché capito noi sprecheremo calorie calorie intellettive calorie fisiche quelle ma è abbastanza però cioè stiamo preparando tutto cosa si devono aspettare i nostri spettatori caos ma va allora si devono aspettare di conoscerci per quello che siamo perché in generale a noi piace presentarci così come siamo autentiche io un chiancone e lei mi simpatia sostanzialmente c'è una guerra in testa che vogliamo adesso anche praticamente trasmettere al pubblico a chi ci sta attorno quindi state attenti state attenti soprattutto all'iconografia che giocherà un ruolo importantissimo sì che assist che vi ho dato in questa trasmissione però se non sbaglio questa grafica questo avatar l'ha fatto omleto ecco grazie omleto ci hai fatte perfette magre ci hai fatte omlet magrissime omlet per me il mio omlet si a voi piace un sacco giocare facile ma qui a telebay di social light vi mettiamo in difficoltà perché sulle vostre sedute trovate delle lavagnette e dei colori vi chiediamo di fare un autoritratto l'una dell'altra è troppo facile devo disegnare luigia come se fossimo a parigi chissà se abbiamo una canzone un po francese amomattro 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 ah nous allons disegnere oui 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 sono praticamente verdi si sono del cinese freschi freschi che colore vuoi amore ma non lo so scegli tu tesoro sai che io mi fido mi affido tu vuoi essere verde perde la speranza c'è brutta cosa vabbè io comincio chi se la prenderà di più secondo voi voi sarete super ironiche auto ironiche vedremo vedremo iniziate iniziate l'autoritratto il ritratto il ritratto qua è facilissimo però ha un po di cura no non ti preoccupare io sono sono così geniale improvvisa estensiva vedrai c'è anche un luciolino sulla fronte nel frattempo io continuo con le mie simpaticissime domande vai caro questo tour promozionale iniziato questa mattina all'alba praticamente sì e avete messo in difficoltà una mia collega amatissima serena vediamo questo rvm di com'è andata alle nostre spalle vedo i vostri avatar ma grissimi peraltro grazie amleto una curiosità ma che cosa hanno in comune una donna felicemente sposata e una donna felicemente singolo tu hai detto siete amiche ma quali sono le cose che vi uniscono davvero la capa la sciocco per dire ecco la testa al gioco non si sarebbe detto no pensa che solitamente quando si registra il mudu noi siamo sempre in stanza insieme e qui mi fermo perché ehi non ti permette no no aveva detto mi fermo proprio per rispettarti nanni perché se no in questi mesi verranno fuori anche quelle cose là voglio svilare a poco alla volta no tu non lo devi fare devo dare il permesso è impossibile fermarla incredibile hai ragione fai alza la mano quando vuoi che insomma ok vai serena hai tutta la mia solidarietà serena grazie sei stata troppo carina sopportarci a quell'ora poi a dare un imprinting alla giornata beh niente male direi niente male una batosta di prima mattina avrà ringraziato per vivere la vita che vive ed essere quello che è ed avere gli amici che si merita tipo te ci sono dei nickname con i quali vi chiamate beh sì lei l'ha pure detto eh sì nanni mi chiama lei che è il vezzeggiativo del vezzeggiativo con cui mi chiamava mia mamma ehi comunque sta concentratissima su di tra sì perché sa che io sono brava a disegnare come non è un capolavoro ma che ce lo fa vedere no allora perché secondo me adesso starà facendo una cosa che è super ironica per supplire al deficit sì esattamente allora la metterà come sempre sull'allegria perché lei è così non proferisce parola no niente perché sta attendo a te e ora starà facendo una cosa tipo raccapricciante però forse ho trovato un metodo per zittirla mmm falla disegnare un po' no no Andrea secondo me è giusto perché finché prende la mano e la cosa poi se la ride io ho timore no secondo me sta facendo una cosa raccapricciante poi col fianco largo probabilmente poi la tua è stupenda da quello che vedo ma poi vediamo poi ve lo facciamo vedere dicevamo dei nickname sì insomma lei mi chiama nani eh e tu come chiami lei lu 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 la dolce lu la dolce lu semplice un po' banale eh con l'accento però eh luigia riesci ad essere un po' multitasking a rispondermi ad una domanda? ci provo dai concentrate sei un'icona qui a televari un tuo video in qualità di suor luigia è il record di visualizzazioni è un personaggio che ti manca dalla tua espressione ed educo di no 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 e invece è un personaggio a cui sono molto affezionata in primis perché avevo dieci chili di meno e dai devo dire che tutto gioca intorno alla fisicità perché insomma adesso anche quindi aspetta allora suor luigi è andata in onda su telebari nel 2015 siamo nel 2000 quasi 23 7-8 anni fa oh di già e quindi a parte questi dieci chili di meno anche otto anni di meno però 200 mila visualizzazioni e quindi come non essere orgogliosa del personaggio suor luigia poi questa suora che comunque non era non è la solita suora no vestita dall'outfit direi di no capito no guarda che spalla ma guarda che strafiglia mamma mia ma guarda che porca cioè di stacrata stiamo andando un po' più in larga in fascia protetta non siamo tanto protetti ma vabbè porca è la femmina del porco cioè dai giustissimo fate finire il ritratto ci saranno dei personaggi io già lo so guarda che orrore non guardare tu sei una cosa ma adesso strappo questo e ne faccio uno serio ma vedi come sei ma ma cavoli così brutta mi vedi ma io poi ci sto facendo una figura intera anche io però a caricatura che schifo ma tu vedi lei è brava le sorprese comunque non sono finite scusa c'è Andrea poi litighiamo dopo a Tuzzi ti prendo sì a me no a lei ah che tu sei capace di prendere a me è vero è vero è vero è vero non lo nego Annabella ehi ho un filmato vintage da rivivere insieme a te oh porca paletta aiuta andiamo a nei momenti di sarà la fame porca paletta do you remember I remember yeah it's very very forward e vorresti non ricordare no no è molto giovane e c'è la giovanissima Serena Serena Brancale che era una bimba di 16 anni 15 anni quanto aveva anche lì si parla di più di dieci anni fa 2006 si parla del 2006 lì scusami ho una memoria un po' da da nerd ecco ciao questa è quella vera vedi che differenza tra questa e quella no che peccato Andrea mi hai ricordato di nuovo che sono vecchia qual è lo stato della salute delle sitcom pugliesi malato malato eh niente diplomazia tua eh proprio dritta dritta però che i primi anni 2000 erano una vera e propria istituzione qui in Puglia ogni emittente aveva i propri cavalli di battaglia ma adesso voi che siete nel backstage che aria si respira allora il problema non è dato e mo divento un po' seria mannaggiatta e ci sta ogni tanto ok il problema non è tanto dato dalla dall'offerta della popolazione comica che è comunque un problema perché la comicità in quanto fatto di l'arte in generale rispecchia sempre quello che diventa la società quindi comunque il rumore che fa questa questa entità che è la società purtroppo la società adesso è ridotta ai minimi termini in quanto a contenuti a struttura ma non è tanto colpa del singolo è colpa insomma è un'evoluzione in voluzione dovuta a tutti i disastri che viviamo fondamentalmente per cui si sceglie di impoverire perché io mi rendo conto che noi siamo dei privilegiati facciamo il lavoro che ci piace entrando in contatto con la gente con la nostra gente quindi noi possiamo comunicare tranquillamente senza senza sentirci alieni e quindi comunque essendo il lavoro che ci piace essendo la nostra passione vivendo di questo tra mille difficoltà naturalmente fai 3000 faccio 3000 facciamo anche un one billion di difficoltà ok però comunque noi ci sfoghiamo attraverso la nostra spinta artistica io invece penso sempre per qualunque cosa mi viene cioè il mio pensiero va sempre al nucleo familiare con degli adolescenti che vivono il momento clou della loro crescita cioè la base è il momento fondamentale che hanno due genitori che la maggior parte delle volte sono divorziati la maggior parte delle volte devono lavorare comunque entrambi o comunque hanno difficoltà a vivere ok la vita è diventata costosissima è tutto molto difficile i social schizzano proprio con i loro contenuti totalmente assenti e totalmente proiettati verso il decadimento umano proprio cioè quante visualizzazioni hanno i fails con gente che si schianta la gente e la gente piace la gente piace sta roba sta robaccia io mi sento il gusto dell'horror del macabro della tua sfiga la mia risata c'è sempre un postato c'è sempre stato però con uno spessore un pochino più cattivo no diverso i contesti erano diversi quello era un'eccezione adesso è tutto così ok quindi a me viene a pensare che tutto il pensiero questo scambio tra ambiente che ci circonda società e il rimando e il feedback è tutto piuttosto basso ed è teso a distrarci dal problema effettivo quando tu tendi a distrarre dal problema effettivo che è la sopravvivenza semplicemente il contenuto anziché insomma andare a ricercare il contenuto elevato che comunque ti ti scava dentro magari ti fa venire mal di pancia però quantomeno ti aiuta ad aprire di più la testa noi abbiamo in questo momento l'imbuto al contrario qui e qui cioè noi vediamo con i paraocchi e vediamo quello che è molto probabile che la massa ci induca a vedere tutto questo si ripercuote sull'espressione artistica e quindi sul contenuto artistico che anche i lavoratori dello spettacolo leggero devono proporre quindi se vuoi proporre dei contenuti come i tempi d'oro ma dello stesso sarà la fame fatto con due soldi tra amici ed è una cosa di tutto rispetto comunque un tema ce l'aveva ce l'aveva dei contenuti adesso la proposta comica è medio bassa anche perché c'è lo streaming che fa da padrona quindi ci sono questi mostri con cui competere io su Netflix vedo il tutto su Netflix proprio sullo streaming diverse di piattaforme perché la tv generalista ai me non mi soddisfa proprio anzi mi nervosisco perché vengono investite grosse produzioni in porcherie con qualità veramente pessima bassissima ma perché questo è ecco la grande responsabilità di cui prima la grande responsabilità è dell'emittente è della casa produttrice perché loro ci vogliono rimbambire a me fa pensare tutto questo processo poi la chiudo perché divento pesante e ritorno a questo eh sì? non so se hai capito perché faccio coppia con lei faccio tutti ieri quindi io posso disegnare in santa pace conviene, conviene due meschini a me fa pensare al periodo fascista ma non è una cosa politica no? no non è proprio è una cosa proprio storica quando per distrarre la massa dai problemi veri che succedevano a livello sociopolitico si propinava la letteratura rosa che era una roba leggerissima tutti felici tutti contenti che doveva per coprire coprire quindi la condizione delle sitcom adesso è medio bassa perché questo è quello che sta accadendo alla società Mattarella stamattina a Bari ha parlato di meno ma io l'ho detto che devo iniziare a fare la politica cioè ma tu hai visto quello che ho detto io all'inizio che lì ha detto tu come minimo lì dietro devi avere un capolavoro dell'arte moderna questo lo voglio vedere appeso nella stanza di Maddalena Mazzitelmo ve lo dico ciao Maddalena sicuro non lo far vedere ai cuccioli che sennò poverini non crescono mancano pochissimi secondi e dobbiamo far vedere le opere d'arte io ho finito anche io metto la firma allora c'è più suspense nei confronti di quello di Luigia quindi lo teniamo per dopo abbiamo intravisto qualcosa del ritratto di Annabella 3, 2, 1 vai eccolo qua grazie Nanni tutto capito mi si fa però è una caricatura ma vediamo ci sei combinato tu 3, 2, 1 carinissimo dai Lu niam niam c'è in mano un cuore no no vado a vincere naturalmente cioè io le ho messo il cuoricino sul petto e poi hai visto noi due comprendiamoci la comica è stupendo c'è del marketing in quest'arte è stupendo devo portarti il curriculum dobbiamo fermare il palinsesto avete notato la firma l'autografo all'opera eh certo sembra un disegno fallico voi mi fate bassa davanti partiamo subito con l'asta al miglior offerente vai ci hanno detto di voi che siete un po' senza peli sulla lingua eh eh allora ho preparato per voi delle foto di comiche italiane vai alle quali voi darete un giudizio 3, 2, 1 partiamo con la prima foto 3, 2, 1, 4 Michela Giraud la conosco e mi piace tanto io l'ho conosciuta abbiamo fatto un laboratorio abbiamo seguito un laboratorio insieme non la conosco non la conosci eh in gamba next che vuol dire prossimo ma va Katia Follesa ci piace simpatica molto simpatica a me piace il suo modo di di essere il suo modo non solamente di come fa comicità anche da solista avrà meglio i tempi di Katia e Valeria no no forse la preferisco da solista questo progetto nuovo con non mi ricordo come si chiama però è bello prossima foto Luciana Litzè non mi piace più eh no no prima a me piaceva e la seguivo adesso no a me non piace più e poi sempre questa cosa di sta politica sta politica sta politica da supermercato poi comunque da banco dovremmo avere forse un'altra Favolo cioè proprio standing ovation brava brava Teresa Mannino è meravigliosa lei è la mia super prefera no vabbè lei è fantastica è proprio brava 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 non mi ricordo se le ho finite o c'è qualcosa ma quando verranno loro eccola ah e niente male niente male però mi piaceva quando era cicciottea anche a me perché poi quando uno dimagrisce capito si crede ho perso la verba comica e adesso facciamo cambia lo humor allora perché noi non vogliamo noi non dimagriamo perché lo decidiamo è tutta strategia abbiamo paura di perdere no ti senti figo ti senti ti prendi sul serio comunque ma quando inviterai loro mostrerai loro le nostre foto è chiaro ci mancherebbe altro grazie le conosci ehi grazie ehi sexy comunque credo all'unina vabbè per tutti un'animità bravissima grazie per i sottotitoli Teresa Mannino promossa ma papà ma papà ma papà con 110 lode con plauso e pacchetta sul sedere inesistente accademica abbiamo un ultimo minuto vai per il vostro appuntamento vai Lu allora il nostro appuntamento lunedì 7 novembre alle 12 dalle 12 alle 1 a meno 10 quasi perché poi lasceremo posto al ciardatano ci siamo noi la quota rosa comica di Telebari ricchi premiso e così e così e così e così cioè lo zampone quando saremo sotto Natale daremo uno zampone allora datemi un numero preferenziale perché lo voglio voglio vincere qualche cosa puoi vincere questo ho vinto qualche cosa se c'è un XXL la voglio ma che cosa sei un figurino ma che diamine dici no ma te ti vedo con una invece tutta aderente per vedere i pettorali poi immagina queste due sui pettorali poverino no forse è meglio di no anche se siamo carine però siamo troppo simpatiche lui e se stupendo ricordiamo ancora una volta che da lunedì questi due uragani saranno su Telebari e Radio Bari e per chi non dovesse insomma avere la possibilità di ascoltare Radio Bari o vedere Telebari ovunque da madre Adre ovunque smartphone alla mano siamo ovunque esattamente con un pc su www.telebari.it grazie grazie Andrea questa puntata di Telebari Social Live termina qui mi prendo finalmente un weekend off e torno con loro ad eragarmi ovviamente grazie per averci seguito ciao Andrea grazie questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore Conserva Trasporti e Logistica Siti Moda seguici sulla nostra pagina Instagram Siti Moda Italia oppure su Facebook Banca Popolare di Puglia e Basilicata